buonasera a tutti quanti per tutta la sera questo è un altro mio video perché vi voglio mostrare che ho creato un nuovo vaccino il vaccino dello zimbaro contro la zimbarite i componenti sono due alcol etilico e acqua ossigenata voi vi chiederete perché alcol e acqua ossigenata semplicemente perché l'acqua ossigenata purifica se si ha un'infezione toglie le scorie l'alcol disinfetta adesso vi faccio uno spruzzo del vaccino ecco qua ho tolto anche l'aria prossimamente nelle migliori farmacie il vaccino del dottor messicano contro la zimbarite dello zimbaro adesso vi saluto dal dottor messicano è tutto